Ristetto dell'avversario, concentrazione fisica e mentale, ma anche disciplina sportiva che insegna a sviluppare la forza spirituale, ancor prima delle abilità atletiche. Questi i sani principi che Alessandro Tidona, mental coach e maestro della palestra Dojo Kan di Mazzarrone, trasmette ai suoi allievi che praticano questa disciplina sportiva, che nella sua realtà è ormai divenuta un punto di riferimento per adulti e ragazzi e sono proprio loro i protagonisti in quanto attraverso tale pratica sportiva emergono valori come la socializzazione e la voglia di fare gruppo. Ho iniziato a fare questo sport all'età di sei anni, è uno sport che aiuta molto sia mentalmente che fisicamente e mi aiuta molto anche perché cambia il modo di parlare, come porsi con le persone, l'atteggiamento e anche come rapportarsi appunto con le persone. Ho scelto il karate perché mi sono sempre piaciute le arti marziali, è circa un anno e mezzo che lo pratico. Il karate ci ha reso a tutto il gruppo un gruppo sia più forte fisicamente e anche più forte mentalmente perché con il maestro Alessandro facciamo anche delle lezioni su come gestire la rabbia, l'ansia e la tensione. Poi magari è bello venire qua in palestra non solo perché ci insegnano tante cose ma anche perché siamo un gruppo abbastanza numeroso come potete vedere e quindi viene la voglia di stare insieme agli altri amici. Anche per i bambini in età adolescenziale il karate è uno sport di sani principi che aiuta nella crescita coinvolgendo il corpo e la mente e che è possibile praticare a cominciare dalla tenera età di appena 4 anni. Perché il karate è una disciplina e mi è piaciuto. Autocontrollo e rispetto dell'avversario quali elementi base del karate sono invece i benefici che questa pratica sportiva trasmette nella psiche dell'atleta. Sotto l'aspetto fisico i benefici sono rilevanti sia per le articolazioni sia per l'agibilità a livello muscolare. Impariamo a gestire l'arrabbia ma sotto un altro punto di vista quindi non utilizzando l'arrabbia contro il nostro avversario ma utilizziamo e usiamo l'arrabbia per caricarci ancora di più. Studiamo molto l'autocontrollo sia fisicamente perché quando ci alleniamo e ci mettiamo ad esempio a coppia non affondiamo i colpi. Quindi l'autocontrollo è usato anche psicologicamente anche mentalmente nel senso che c'è un allenamento dietro proprio un allenamento mentale quindi non soltanto fisico ma anche mentale. Conclude il mental coach e maestro Alessandro Tidona che assieme ai suoi atleti sono reduci da una competizione agonistica svoltasi a Montecatini Terme che ha consentito al suo gruppo di ottenere validi e buoni piazzamenti. Col karate si inizia già all'età di 4 anni facendo della preparazione per poterli poi immergere in quello che è il karate quindi si fa più un'attività basata sui percorsi, basata sulla psicomotricità. Abbiamo tante regole da rispettare. La prima cosa fondamentale è il rispetto. Faccio karate ormai da quasi 18 anni e abbiamo raggiunto tantissimi risultati dal punto di vista agonistico ma anche dal punto di vista formativo perché il karate non è uno sport semplice, è un qualcosa che ti forma nella vita. Abbiamo fatto i campionati pre-agonisti a Montecatini lo scorso mese e abbiamo ottenuto diversi piazzamenti. Una squadra si è titolata campione d'Italia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.